Allora, non è che ci sia un argomento specifico di cui parlare questa sera, tra l'altro sera in cui ricomincia la Champions League, anche se per la Juve, come sapete, si tratta di attendere ancora 7-8 giorni, prima di entrare in questo rush finale, nel quale ci saranno sentenze che possono essere parziali o definitive, dipende naturalmente dall'esito, sto allugando naturalmente alla Coppa Italia e al doppio confronto con il Lione, mentre il campionato, come sapete, è tutto molto più rimediabile, per cui è vero, la Juve adesso è in corsa in tutte le competizioni, nei prossimi 24 giorni ci sono 7 partite che possono dare un titolo, non un titolo nel senso di trofeo, ma un titolo importante alla stagione della Juve. Arriviamo praticamente al ritorno con il Lione, lì si capirà appunto se proseguirà l'avventura in Champions League, se quella di Coppa Italia sforcerà nella finale di Roma e naturalmente contro chi, perché insomma sapremo tutto, quindi diciamo che la Juve sta per entrare, la Juve come squadra, la Juve come ambiente sta per entrare in un bel periodo di fibrillazione, di fibrillazione, perché poi è noto come molti di voi che mi state seguendo sarebbero disposti anche a barattare lo scudetto per una Champions League, c'è chi dice anche tre scudetti per una Champions League, il rapporto da 1 a 3, e quindi si capisce bene qual è l'orientamento principale del mondo bianco-nero, al di là di quelli che possono essere poi i progetti piatti della società, abbiamo già parlato, la società preferisce confrontarsi sul programma di lungo corso, che è quello del campionato, e considerare tutto il resto un di più molto legato a dei fattori epilogici, comunque sono discorsi che abbiamo fatto un sacco di volte. Ha parlato, Alessandro Del Pier, lo trovate su One Football, e ha parlato del tema più ricorrente in questo periodo, ossia il modo di giocare della Juventus, quindi la panchina di Sarri, e insomma ha messo in evidenza quello che forse non abbiamo mai toccato effettivamente come aspetto di per sé, però è vero, è una verità abbastanza inoppugnabile, cioè c'è una contraddizione, per il gioco di Sarri ci vuole tempo, ma la Juventus non dà tanto tempo, a meno che non siano cambiati gli orientamenti, è sempre stato così, insomma la Juventus conta vincere, è l'unica cosa che conta, o comunque la cosa più importante, e se non vinci ti passa in cavalleria, ma con un bel giramento di maroni, ti passa in cavalleria magari il primo anno, sul secondo la cavalleria, o conquista qualche cosa, o sennò la cavalleria ti travolge, e quindi c'è solamente da aspettare, vedremo. Io credo che sia molto importante in questo periodo il rientro di Giorgio Chiellini, verrà probabilmente organizzata, come ha detto Sarri, un amichevole per lui in settimana, per aumentargli il minutaggio. Credo, credo di aver capito, di aver intuito, che la partita a cui fa riferimento Chiellini, per poter iniziare a giocare insieme ai suoi compagni, dal fischio d'inizio, e quindi riprendersi la fascia di capitano dall'inizio, sarà quella di Lione, quella di Lione della partita di andata, praticamente tra una settimana o poco più, insomma. Lì punta Giorgio Chiellini, come lì punta Miralempiani, anche se, vedremo, ma insomma i segnali sono molto confortanti, non è nemmeno da escludere totalmente la possibilità che sia già disponibile per giocare uno spezzone di partita contro la Spal, anche se ultimamente gli spezzoni di partita non gli hanno portato molto bene, perché in sostanza lui era d'accordo praticamente di non giocare nemmeno, visto che c'era un leggero affaticamento, di non giocare nemmeno contro il Brescia, tra quei sette minuti si sono rivelati fatali, lui è stato molto intelligente, perché qua poi si vede l'intelligenza di un giocatore, l'intelligenza di un giocatore è di fermarsi subito al primo dolorino, al primo fastidio, per evitare che tutto questo poi sconfinasse in ben altre e più gravi situazioni. Quindi è stato molto intelligente Pjanic, ma io credo che sia lui che a questo punto buone probabilità anche per Giorgio Chiellini di vedere, che dire ragazzi, praticamente la Juve che ci si è persi per tutta la stagione, perché Chiellini ha giocato solo una partita, segnando, portando tre punti a questa classifica, una delle poche partite in cui la Juventus non ha preso gol, tra l'altro, e quindi c'è sicuramente a conti fatti da sottolineare che una delle ragioni, ma me l'avete fatto notare tante volte anche voi, una delle ragioni per le quali magari la Juventus è andata in difficoltà in fase difensiva, magari sulle palle inattive, per esempio, è stata la mancanza di un giocatore di esperienza, sono stato dovuto alla mancanza di un giocatore di esperienza come Giorgio Chiellini, che sicuramente ha dovuto imparare o sta imparando anche lui un metodo diverso dal punto di vista difensivo, sulle palle inattive, ossia la difesa zona, ma comunque un'esperienza tale, un carisma tale, da poter infondere a tutto il reparto quella sicurezza che non si è vista in diverse circostanze, è tramutata, direi, non tanto in insicurezza, ma leggerezza di atteggiamento, perché io ricordo certi gol presi proprio per leggerezza di atteggiamento, e se non hai un allenatore anche in campo che ti fa un mazzo così, se ti vede leggermente o se coglie in te qualche atteggiamento di leggerezza, allora è difficile raddrizzare la baraca. Uno o più allenatori, perché magari la forza congiunta di Chiellini e Bonucci, tanto per fare un esempio, può produrre risultati che magari uno solo non è in grado di ottenere da tutto il resto del gruppo. Possiamo dirlo alla vigilia di un punto di svolta, di un punto di svolta di questa stagione, perché le prove d'appello finiranno, perché sono quelle situazioni paradossali, per cui tu sei dentro in tutto, sei primo in campionato, inconfruttabilmente, hai la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia, e sei negli ottavi di Champions. Però nel giro di 24 giorni potrebbe esserci il rinnovo di tutta questa attesa, come potrebbe esserci la constatazione che uno o due obiettivi li hai dovuti abbandonare. E sono i deliri del calcio questi, i deliri del calcio che determinano poi i deliri di commento, i deliri di editori giornali, i deliri delle tradizioni interdivisive, nell'uno o nell'altro senso. Quindi sostanzialmente, insomma, io penso che sia un periodo proprio tutto, tutto, tutto da vivere. E credo, credo onestamente, che al di là di quello che fa vedere in conferenza stampa, di quella, come dire, sicurezza che mostra in conferenza stampa, io credo che per Maurizio Sarri sia un periodo molto importante, uno dei periodi più fondamentali della sua carriera. Perché hai allenato il Napoli, ma a Napoli non avevi certe pressioni, hai allenato il Chelsea e forse qualche pressione in più, magari ce l'avevi, hai portato a casa un Europa League. Ma allenare la Juventus è una cosa totalmente diversa. Quindi io penso che anche lui si stia rendendo conto di trovarsi di fronte ad un bivio importante della sua carriera, anche se non stiamo certo parlando di un attore alle prime armi, non stiamo certo parlando di un attore giovane, anagraficamente, ma credo conscio proprio di questa situazione. E anche per questo, adesso cerco di scavare un po', anche per questo credo che si stia rendendo conto che quantomeno per quest'anno, il primo anno, date le difficoltà oggettive di modificare il modo di pensare calcio, come dice lui, in poco tempo, ecco, che per quest'anno si stia rendendo conto che quel vincere è l'unica cosa che conta, è fondamentale. È fondamentale per dare poi l'incipit a quella che sarà la continuità del suo lavoro successivo. Quest'anno ha provato, fa fatica, ci sono ancora alcuni mesi a disposizione, però c'è poco tempo per lavorare. Cioè, il tempo per lavorare c'era stata nella pausa tra la fine del girono di Champions e la ripresa. Adesso la Champions ricomincia, giochi ogni tre giorni, augurandoti ovviamente di giocare ogni tre giorni fino a maggio, ma giocando ogni tre giorni lavori ovviamente meno, hai meno possibilità. Quindi anche per questo credo che stia abbandonando l'idea di modificare al 100% il modo di pensare calcio della Juventus e si vada a concentrare molto di più su quelli che sono i risultati pratici, perché poi sono questi che determinano i giudizi finali le famose sentenze di campo che vanno poi a proiettarsi su eventuali scelte e decisioni per il futuro. Spero di avervi annoiato, notizie grosse non ce n'erano, la diatriba Pogba, Solskjaer, Minoraio, la seguiremo ancora. Non ho nominato Guardiola, ma perché non ci sono aggiornamenti ai tabloidi inglesi che dicono che torna, che verrà ad allenare la Juventus e lui che dice che resterà lì, si fanno atti di fede, o si crede all'una o si crede all'altra cosa. Ma tanto ne parleremo ancora. Alla prossima, ciao!